Siamo qui a Torino, Magic Bike, ringraziamo tantissimo Giorgio e il suo team, gentilissimi, carinissimi, ci hanno ospitato alla grande e Chiara e il team di connessioni che hanno organizzato la giornata, sono stati il nostro media partner, assolutamente validi, hanno creato un evento nell'evento, quindi oggi abbiamo clienti, ospiti, partner che in questo momento sono in giro in moto, si stanno divertendo, siamo riusciti insieme quindi a svecchiare un po' l'idea della classica giornata di formazione o presentazione prodotto, vediamo facce allegre e sorridenti, sembra che si stiano divertendo tutti, oltre ad averci dato la possibilità di presentare la nostra tecnologia al di fuori del contesto classico, dell'incontro business a tutti i costi. Questo segue un po' la filosofia aziendale che ultimamente è quella di andare al cuore delle persone condividendo la passione, in questo caso niente di meglio di moto, strumenti musicali e siamo riusciti in questo primo evento pilota, speriamo di poterne fare molti altri con questi nostri partner. Noi operiamo tutti i giorni in un mondo fatto di schede tecniche, quindi quanto di più lontano dalla passione potrebbe sembrare, in realtà poi parlando con i nostri interlocutori che sono l'installatore, il system integrator, il service, il fonico, vediamo che quello che muove tutti noi e in primis lo staff Yamaha è proprio davvero una passione sconfinata per la musica, l'audio e tutte le sue contaminazioni. In questo senso ci siamo subito capiti con Giorgio Magic Bike, il suo team, che vivono della motocicletta, quindi un qualcosa di così diverso dalla classica automobile che utilizzo anche io tutti i giorni, ma legato veramente a sensazioni più viscerali e quindi che vanno al di là della freddezza dei calcoli. Grazie a tutti.